Bella ragazzi, bentorni qui sul canale di Granz, gli incuro l'intro ogni volta, siamo tornati con un nuovo episodio rotto di Vision One e come avete potuto vedere questo italiano c'è scritto brasiliana e... E sono brasiliani in effetti Siamo brasiliani, sì Abbiamo perso l'ultima in una maniera veramente allucinante perché stiamo vincendo 5 a 1 e ci si è staccato internet Listo Quindi ci ha dato la sconfitta A me garca mi vai di dardo un bot joystick quando muovo il giocatore Ikulu, vai! No dai, come ha fatto a intercettarlo David Luiz Doninette? Ikulu! 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 Ikulu Pil non è fuorigioco, tracciare una gamba uuuh è fuorigioco ma pippo tutti gli albitri e albitri albitro bambini di 5 anni no ma che in corea vabbè basta basta che vai a milano da presidente dell'internet indianna fino in corea che tipo fa? che questo c'è al possesso parlo al 99% praticamente mondiala non tira bene non c'è un po' c'è di entra un po' cazzo troglia cazzo parlo quando è l'ultima città e mezzo mitira tazzito una musica che i metti e mezzo da un tipo mezzo palantini e non per di valla c'è per di valla da lui subito subito dubbio un po' meno subito però oh ecco la testa eh se me la fa prende un attimo in mezzo no guarda che c'è musa eh c'è lancia musa eh lancia musa mannaggia lag lancia musa mamma mo vidigno da quand'è che in core? da quando c'è un 90 deformatisica aspetta lui lui l'altro che cazzo oh guarda te guarda te guarda te guarda te sempre la stessa cosa ti riesce sempre sta cosa incredibile si infatti c'è quando siamo noi lanci così sempre la prende il portiere grazie dallo aspetta ma vaffasolo sto starder evidenziatore dai ha fatto un portasolo lui dai non ti puo allungare così ma che cazzo ahahah ahahah si però ha fatto una cosa bella poi una certa bassa ma che bella dove cazzo dai guarda dai di con le disse che non facciamo questi motivi che sono un po' putain no dai però cazzo c'è da ridere no vabbè ah c'è cazzo di prima porco 2 un'altra stagione in settima mi sono rotto il cazzo a chi non per te che devono devono rispondere in ritardo a te i comandi te giuro questa cosa a metà fa palcazzo metà u ma che non credo se vedeva al tuo pomo è lag devo anticipare 3 secondi quello che devo fa e la madonna manco farlo un piccio perchè il culo e ciò di passaggi è qualcosa di incredibile guarda mezzo passola no vabbè fattila stocollo randuolo c'è che non capisco fa dei colori improponibili capo almeno un punto no perchè perchè ma ci fu lo perdito mannaggia non mi sto bene avere percorso che cacchio cattacolo si è buttato guarda che sony giro una cosa oh non ho sbagliato un passaggio Devi morire Devi morire adesso Cattici Ecco il fair play Ecco il fair play Ha segnato la riga riga Vabbè Che schifo se la gente Non fate melina mai Evitate perchè è una cosa veramente brutta E' una cosa bruttissima Per favore Casostrano è in italiano perchè io ti giuro Quando gioco con i non italiani Non fanno mai melina Ci vediamo al prossimo video E' bella